Buonasera, benvenuti e benvenute. Questa è l'ultima lezione della seconda edizione della Digital School di Aruba Business. Io sono Michela Lombardo di Search on Media Group e oggi parleremo di TikTok. Anticipo che lasceremo gli ultimi 15 minuti della lezione per lo spazio alle domande, per cui io parlerò tranquillamente questa oretta e mezza. Diciamo, potete scrivere in chat le domande e alla fine della lezione le leggerò per darvi le risposte. Benissimo, cosa vedremo insieme oggi? Faremo prima una panoramica di quelli che secondo me sono gli scenari futuri e in questi scenari come si colloca TikTok. Vedremo poi qual è il tipo di pubblico che utilizza TikTok e poi nella terza parte vedremo un po' una sorta di guida con delle best practice all'utilizzo di TikTok e delle specifiche su delle funzionalità molto utili per utilizzarla al meglio. E nell'ultima parte faremo un po' una panoramica dell'advertising su TikTok. Partiamo quindi con questa panoramica degli scenari futuri. Ribadisco appunto che è un po' una mia visione ma che secondo me è fondamentale riuscire a comprendere quello che è il contesto esterno rispetto ai social per lavorare sempre più a livello strategico. E i social come sappiamo sono in continua evoluzione, anzi in continua proprio rievoluzione. E ci sono stati anche negli ultimi anni una marea di cambiamenti non solo dal punto di vista proprio tecnologico ma anche dal punto di vista storico che sappiamo influenzare poi quello che è l'utilizzo che le persone fanno anche delle piattaforme social. Per cui per riuscire a guidare questa evoluzione, questa rievoluzione e lavorare in maniera strategica io credo che bisogna tenere in considerazione tre punti fondamentali che ci aiutano a lavorare in quelli che saranno gli scenari futuri compreso appunto la piattaforma di TikTok. Questi tre punti sono il contesto storico, l'AI, l'intelligenza artificiale quindi tutta la parte tecnologica e la comunicazione e i contenuti. Partiamo dal punto di vista storico, non dal contesto storico. Quello che accade, pensate anche solo a quello che è accaduto dal Covid in poi, dalla questione del Covid, la guerra in Ucraina e non solo, vanno a cambiare un po' quello che è il comportamento dell'utente e il modo in cui vive gli ambienti sociali. Perché dobbiamo sempre ricordarci che le piattaforme social non sono ovviamente solo uno strumento di marketing potentissimo, ma sono ambienti sociali. E questo cambia il modo in cui lo utilizzano, di conseguenza questo detta anche un po' le azioni strategiche, la nostra comunicazione su queste piattaforme. E quindi la questione del contesto storico ha un impatto sociale e economico, diciamo, dall'esterno verso l'interno rispetto alle nostre strategie. Mentre sulla parte dei tech abbiamo un impatto tecnologico, sempre anche questo dall'esterno verso l'interno, e poi c'è invece un impatto reputazionale dall'interno, appunto dal nostro brand verso l'esterno, rispetto ai contenuti e la comunicazione. Pensando appunto al contesto storico, quello che accade nel tempo, ma che stiamo vivendo anche oggi, partendo appunto, come vi dicevo prima, anche solo dalla situazione del Covid che ha cambiato radicalmente le nostre vite, ma anche di conseguenza anche quelle che sono le tattiche, le strategie aziendali, le strategie digital, di conseguenza anche gli investimenti di advertising, e va questo a modificare anche poi le nostre strategie di comunicazione. Cosa è successo nel tempo che si è avuto proprio un cambiamento sulle piattaforme social? Che quello che è avvenuto a livello storico ha cambiato un po' la percezione delle persone, dando sempre più importanza al tempo e all'autenticità. E cosa è successo? Che le persone hanno iniziato a cercare un rapporto, diciamo, più sano, con i social e anche con il digitale. Quindi iniziano ad utilizzare soprattutto i social per cercare, diciamo, diverse forme di benessere, di intrattenimento e cercare appunto anche contenuti motivazionali. Quello che è successo soprattutto negli ultimi due anni, però sia proprio un vero e proprio switch, cioè le passiamo dall'utilizzo dell'utente nel cercare questi contenuti al proporli. Cioè le persone iniziano loro stesse a proporre questi contenuti, quindi propongono forme di benessere, forme di intrattenimento. E questo cambia radicalmente la concezione del social perché al centro c'è solo e esclusivamente l'utente. L'utente quindi diventa protagonista dei social media. E TikTok è stato, diciamo, anche un po' il promotore di questo cambiamento, l'ha percepito prima di tutte le altre piattaforme. Proprio in questo contesto si ha il boom, esplode TikTok perché le persone si sentono su TikTok libere di poter esprimersi apertamente ed essere loro stessi. E questo va poi a creare dei nuovi formati di contenuti. Le altre piattaforme iniziano poi ad adeguarsi a quelle che sono state le tendenze lanciate da TikTok anche rispetto ai formati. E si ha il boom dei creator e dei micro creator. Si ha proprio un nuovo modo, completamente diverso, di fare influencer marketing. Una nuova corrente, diciamo, di influencer marketing radicalmente diversa, dove hanno il boom non solo i creator, ma anche i micro creator. Cioè si inizia a dare molta importanza, grazie a TikTok, a quei creator che hanno magari delle community più piccole, che non hanno milioni di follower, ma che riescono ad avere un rapporto autentico con i loro follower pur avendo community più piccole. E in questo contesto TikTok diventa l'app più scaricata al mondo, la destinazione numero uno, diciamo, per fruire contenuti mobile di formato breve e viene utilizzata agli utenti proprio per uno spazio, diciamo, di scoperta e ispirazione. Sempre per quello che vi raccontavo prima del significato per l'utente di autenticità e il significato anche del tempo, di come intende spendere il suo tempo. Intende spenderlo nel fruire contenuti di intrattenimento. Anche in questo TikTok ha lanciato un vero e proprio modo di comunicare. E la cosa fondamentale nel momento in cui decidiamo di approdare su una piattaforma come TikTok a favore delle nostre strategie, è fondamentale pensare che il business non può essere staccato dall'intrattenimento. Cioè l'errore che spesso si fa è quello di pensare, ok vabbè, TikTok, lo vedremo, che smentirò queste affermazioni, appunto, si tende a pensare TikTok è la piattaforma della generazione Z, è la piattaforma dei video, dei balletti, assolutamente no. Ha un nuovo modo di comunicare ed è quello dell'intrattenimento, che però può venire assolutamente a favore del nostro business. Ma quello che rende unico TikTok, che è da prendere appunto in considerazione per capire bene come muoversi, è proprio il modello di intrattenimento che viene definito partecipativo, perché abbiamo tre attori su TikTok. Dovete sempre tenere presente che c'è sempre un'interazione tra questi tre attori. Il brand, la community, quindi le persone, gli utenti che fruiscono ma creano anche contenuti, è TikTok stesso. Cosa succede? Che quello che rende unico TikTok è proprio l'idea di reinterpretazione, che lo rende un modello circolare di amplificazione piuttosto che lineare. Cosa succede? Che il brand lancia un contenuto su TikTok, la piattaforma permette agli utenti di riprendere questo contenuto e di mixarlo e di crearle uno nuovo, dandogli una nuova autenticità. Il terzo soggetto è TikTok stesso, la piattaforma con modalità di discovery, riesce poi a spingere appunto quella tipologia di contenuto. E quindi c'è appunto questo modello di intrattenimento partecipativo, dove al centro c'è il contenuto e i tre attori è un gioco tra questi tre attori. Passando invece al tema dell'impatto tecnologico, quindi intelligenza artificiale e tech, vedremo come TikTok, lo vedrete poi nei vari punti, vi farò vedere rapidamente qualche funzione anche di intelligenza artificiale, ma TikTok al di là delle ultime funzioni nuove di AI, è stata la piattaforma, rispetto a tutte le altre piattaforme social, promotrice dell'intelligenza artificiale per i suoi sistemi anche di machine learning. Infatti è molto smart, non solo nella creazione di video per come funziona l'algoritmo di TikTok, ma anche per la produzione, la creazione di video è molto smart. L'editing è semplificato, vi farò vedere più avanti anche alcuni strumenti che vi aiutano a semplificare l'editing. E quindi vi suggerisce la piattaforma stessa quali sono le modifiche da apportare a livello di musica, di filtri di tendenza, proprio perché ha dei sistemi di algoritmo, di machine learning che riesce ad acquisire tutte le informazioni dei video dagli utenti e quindi a dare maggiore risalto a determinati contenuti, a determinati video nel feed. Quindi ogni contenuto che viene mostrato viene selezionato ovviamente attraverso una serie di informazioni che raccoglie la piattaforma, quindi preferenze musicali, account seguiti, gli hashtag, i dati sui contenuti più visti e quelli più cliccati o condivisi e commentati. E questo offre proprio da un'offerta accattivante del contenuto, per cui si hanno dei video che sono capaci di stimolare costantemente l'interesse dell'utente. Questo crea un feed molto unico che è su misura per ogni utente. Ci sono anche temi differenti, quindi il fatto che ci siano temi differenti nel feed porta l'utente a mantenere sempre alta l'attenzione e non diminuire il proprio interesse. Quindi vediamo come sempre su questo punto si colloca bene TikTok. E poi il terzo è quello dell'impatto reputazionale che abbiamo, come dicevo prima, dall'interno verso l'esterno rispetto ai contenuti e alla comunicazione che andremo a impostare. Il modo in cui stanno cambiando le piattaforme, ma soprattutto il modo in cui viene utilizzato TikTok e le funzionalità di TikTok, dovremmo essere sempre più pronti a coinvolgere nelle nostre strategie aziendali creator e micro creator. Dovremmo essere in grado di non solo di cavalcare le tendenze, ma essere in grado di creare le tendenze. Poi non si può più concentrarsi su un unico formato, ma i contenuti saranno multiformato. Ad oggi lo sono sempre di più, lo vedremo più avanti anche a livello di advertising TikTok, non è solo video, vedremo più avanti nella parte di ADV che abbiamo il multiformato. Inoltre non da poco considerare che TikTok è la piattaforma dei social media che ha più engagement, ha un tasso di coinvolgimento medio del 5,96%, quindi un tasso di coinvolgimento medio più alto rispetto alle altre piattaforme di social media. Vediamo ora qual è il pubblico che troviamo su TikTok. Come vi dicevo prima, l'errore che si fa spesso è pensare che sia la piattaforma destinata solo alla generazione Z, ma come vedete ovviamente il 40% va dai 18,24, però la fascia dai 25 in su fino ai 55 è aumentata tantissimo nell'ultimo anno e mezzo. Abbiamo il 60% delle persone, è vero però che il 40% è occupata dai 18,24, quindi dalla generazione Z. Però cosa dobbiamo tenere in considerazione rispetto a questo che fa gioco alla nostra strategia di comunicazione? Il fatto che la generazione Z è un'utenza di attivisti molto attenta alla sostenibilità e al consumo sostenibile, che sono ormai tematiche che al di là della industria nella quale lavoriamo sono fondamentali per tutti i brand. Gli utenti percepiscono questo tipo di comunicazione, questo attivismo e questa attenzione a determinati temi. Infatti 7 utenti su 10 credono tra l'altro che TikTok, per i contenuti che trovano su TikTok, la piattaforma riesca a ispirare un cambiamento culturale. Questo è assolutamente da tenere in considerazione, ma la cosa fondamentale è capire quali sono gli interessi che le persone hanno, che condividono, quindi le industrie anche che poi riusciamo a intercettare su TikTok. Ci sono più interessi e più community. Mentre vi parlerò appunto di TikTok, nelle slide troverete poi dei link che vi portano a determinati strumenti che vi citerò oggi. Tra questo c'è appunto Creative Center, che è uno strumento che vi permette di vedere a varie funzioni che vediamo più avanti. Nella funzione del trends riuscite a vedere quale sono tutte le industrie per TikTok. E come vedete passiamo dal beauty ai servizi finanziari e all'education. Quindi questo ci dimostra che ci sono community che hanno più interessi, per cui può essere la piattaforma per il nostro business. È da considerare appunto che dobbiamo però avvicinare il business all'intrattenimento. Il 79% delle persone ritiene che TikTok ispiri a provare cose nuove nella vita reale, a scoprire nuovi contenuti che amano, a intraprendere addirittura un'azione. Quindi vedono un video di un creator che promuove un prodotto. La maggior parte delle persone dopo aver visto quel video cercano il prodotto su Google o sui social. E il 73% degli utenti afferma che si sente che ha una connessione molto più stretta con i marchi su TikTok. Quindi questo dimostra come l'approccio dell'utente su TikTok rispetto alle altre piattaforme verso i brand è completamente diverso. E poi è importante comprendere come viene utilizzato dagli utenti rispetto alle altre piattaforme. Come vedete da questo schema Fonte We Are Social, il 78% delle persone utilizza TikTok per l'intrattenimento. Ma secondo me è fondamentale vedere le altre percentuali che magari non ci saremmo immaginate essere così, perché il 33% lo utilizza per cercare o seguire dei brand o dei prodotti. La funzione della search su TikTok è sempre più alta, è sempre più utilizzata. Ad oggi abbiamo anche la possibilità di attivare l'advertising sulla search di TikTok. Quindi nonostante ci sia stato un po' un editrivo rispetto al fatto che TikTok sta superando Google come motore di ricerca, poi ci sono varie scuole di pensiero rispetto a questo, però effettivamente le persone lo utilizzano per cercare anche dei brand o dei contenuti. Viene anche utilizzato per aggiornarsi sulle news, è il 31% che non è poco, è il 35% appunto per condividere video o foto. Passiamo ora alla parte di guida a TikTok e delle sue funzionalità. In questa parte vedremo anche una parte un po' più di analisi, come poter fare analisi. Allora, è importante capire che tipologia di account abbiamo su TikTok. sarà molto precisa su queste cose perché vi assicuro che se non è chiara questa parte vi verrà veramente difficile comprendere come utilizzare lo strumento. Spesso, insomma, occupandomi anche di consulenza per i clienti, spesso è capitato appunto che il problema fosse comprendere la differenza tra TikTok ad manager, business center, ma chiariremo appunto questi dubbi nel corso della lezione. Che tipologie di account possiamo avere? C'è l'account personale, ovviamente, quindi quello che farei io come Michela Lombardo, quindi un account di una persona che intende creare anche contenuti e vederli e condividerli. Poi c'è l'account business che è quello che consiglio per tutte le attività ovviamente di strategia marketing. Per cui se avete, se dovete aprire il canale TikTok per il vostro brand, create un account business. Non fate limitarvi dal fatto che spesso le musiche in tendenza non possono essere utilizzate dagli account business, ma solo dagli account personali. Premesso che su questo TikTok sta modificando parecchio, avete comunque una vasta scelta di musiche da poter utilizzare. Il gioco non varrebbe la candela, perché vedremo più avanti come con l'account business avete alcune funzionalità e la possibilità di utilizzare strumenti fondamentali che con l'account personale non avreste. E poi c'è quindi business account e l'account business a livello organico, ecco sulla parte organica. TikTok Ads Manager invece è il profilo advertising, l'account per fare pubblicità su TikTok, che vedremo più avanti come poterlo utilizzare. Partiamo dalle basi però. Innanzitutto aprire un profilo di TikTok business è gratuito. Potete aprire un profilo TikTok Ads Manager gratuitamente senza avere un profilo TikTok, ovvero il brand per un tema di risorse, per un tema di budget, non è ancora pronto per avere un profilo organico, perché comunque nel momento in cui decidiamo di approdare su una piattaforma sarà necessario definire una strategia e quindi essere costanti anche con la pubblicazione. Per cui spesso magari non si è ancora pronti per fare questo tipo di passo, ma si ha la necessità di investire in advertising su TikTok, anche rispetto a quello che abbiamo visto sino ad ora per il target che troviamo, perché attualmente è una delle piattaforme più utilizzate lato social, si può fare advertising senza avere un profilo. E si può avere un business account e collegarlo comunque all'account pubblicitario, quindi TikTok Ads Manager, per fare advertising. Come utilizzare però TikTok per far crescere proprio appunto il profilo? Quindi in questo caso vi sto parlando non di TikTok advertising che vedremo nell'ultima parte della lezione, ma di come utilizzarlo per far crescere il profilo organico. Io uso questo, diciamo, metodo che mi aiuta un po' ad avere una sorta di guida collegandolo alle 4C, costanza, community, comprensione dei dati e collaborazione con i creator. Allora, sarà fondamentale che ci sia una pubblicazione regolare dei video, che ci sia una certa frequenza, è fondamentale che siate attivi, no? Quindi perché dà un motivo al vostro pubblico per essere connessi e quindi desiderare di vedere anche il prossimo video. Spesso la domanda è, ma quanti video devo pubblicare su TikTok? Non è che ci sia un numero preciso perché tanto dipende da tutta una serie di dinamiche, oltre alla possibilità che avete a livello di risorse e di tempistiche, ma anche il tipo di contenuto, le industrie, il target al quale vi rivolgete. Però diciamo che anche il consiglio che danno i consulenti di TikTok e la piattaforma stessa è almeno di partire da un minimo di 3 video a settimana, che già è un buon modo per avere un'attività di video sharing abbastanza stabile. Anche perché ricordatevi che, essendo come vi dicevo prima, una piattaforma molto smart nell'editing del video, non dobbiamo pensare TikTok come un canale nel quale andare a condividere un contenuto, certo deve essere di qualità e deve avere una qualità e un contenuto sempre rivolto al vostro target, ma la possibilità di girare il contenuto con il mobile, riuscire ad editarlo direttamente con gli strumenti che vi dà la piattaforma, vi consente veramente di ridurre i tempi di produzione, è molto più smart di quello che possiamo immaginare. Il secondo punto è la community. Non pensate che non esistano le community su TikTok, anzi quello che vi facevo vedere prima era appunto questo, non solo la tipologia di target che vediamo, ma il modo in cui gli utenti utilizzano questa piattaforma. Quindi dovete creare non solo la vostra community, ma interagire con la vostra community, quindi seguite anche altri account, commentate, interagite, cercate di coinvolgere il proprio pubblico reagendo, rispondendo anche ai loro commenti. Cercate sempre di rimanere in contatto con la community anche al di fuori di TikTok, quindi cercate di capire come promuovere il vostro profilo, quindi inviare link ai tuoi video su TikTok, anche se, anche chi non è su TikTok, comunicate che siete su quel canale lì, anche attraverso le newsletter o anche altri canali social come il link sul sito. Collaborazioni. Sarà fondamentale, come dicevo prima, anche per un tema sul terzo quadratino, triangolino della torta che abbiamo visto di comunicazione e contenuti, creare collaborazioni con i creator e i micro creator e comunicare anche con loro, iniziate a seguirli, a commentare anche i loro contenuti. Non è sempre facile, anche in base ai brand con cui lavorate, cercare di riuscire a lavorare sulle collaborazioni con i creator. Su questo però ci viene incontro anche la piattaforma, vi farò vedere uno strumento molto utile, ma nel momento in cui decidete di fare collaborazioni, perché questo vi aiuta appunto a crescere su TikTok, bisogna tenere in considerazione alcuni fattori fondamentali. Innanzitutto le categorie e tipi di contenuti simili ai vostri. Cercate di capire quali sono i formati video simili a quelli che create anche voi rispetto al creator e trovate anche dei modi di collaborare, quindi potrebbe essere un cameo in ognuno del video dell'altro, cercate di taggarvi a vicenda nelle didascalie, create delle sfide, cercate di trovare vari modi di collaborare. Però come dicevo prima, non è semplice muoversi nel mondo del creator, anche perché questa è in continua evoluzione, ma c'è uno strumento molto utile di TikTok che è TikTok Creator Marketplace. Accedete a questo strumento se avete un account business, diversamente non potrete farlo. Si accede comunque in maniera molto smart ed è una piattaforma diciamo ufficiale di TikTok che vi consente di connettervi con i creator o gli influencer e gestire all'interno della piattaforma le campagne di influencer marketing. Cosa vi permette di fare? Vedete qui abbiamo la sezione esplora, avete la possibilità attraverso alcuni filtri, scegliendo le categorie, quindi le industrie, ok, pertinenti, con segmenti di pubblico pertinenti, in questo caso, o in base anche agli obiettivi dei contenuti delle campagne. Ovviamente anche in base al luogo, al genere, all'età e alla grandezza appunto delle loro community. Una volta inseriti questi filtri sui creator, la piattaforma vi darà diciamo una lista di proposte di questo creator e avrete la possibilità di entrare in contatto direttamente. Una volta entrati in contatto, definite le collaborazioni, riuscite anche poi ad analizzare le prestazioni di questi creator, con degli approfondamenti molto completi sulle campagne. La cosa interessante è che avete, cioè vi dà la possibilità di vedere oltre 500.000 creators su 24 paesi, su 47 categorie diverse. Quindi capite che questo è un mercato molto ampio, indipendentemente dal brand con il quale lavorate. e c'è sempre il tema che il creator, diciamo quello che fa il creator è quello di trasformare i contenuti anche in movimenti culturali, ricordandoci quello che vi raccontavo prima. Quindi lavorare con qualsiasi creator di qualsiasi dimensione, sia la sua community, raddoppia inoltre i tassi di coinvolgimento. Quindi i più grandi creator TikTok possono guadagnare tassi di coinvolgimento cinque volte superiori agli altri. E questo, le collaborazioni con i creator, diciamo che aggiungono autenticità anche ai vostri contenuti, a quella che è la vostra mission. L'ultimo punto, ma non il meno importante anzi, è quello della comprensione dei dati. Senza analisi, se non conosciamo il nostro pubblico e le sue preferenze, non conosciamo i contenuti più performanti. Se non conosciamo i contenuti più performanti, non siamo in grado di definire delle strategie di content marketing. Perché l'errore che spesso si fa è che pensare che la creatività sia completamente separata dal concetto di analisi. Invece no. Quindi anche su piattaforme come TikTok, che vivono di creatività, è fondamentale avere la comprensione dei dati. Come facciamo a tirare fuori dei dati di analisi per fare un'analisi sui nostri contenuti? Vi sto parlando solo e esclusivamente della parte organica del profilo. Ovviamente TikTok, come la maggior parte delle piattaforme social, la fruizione che fa l'utente è quella del mobile. Ma non dimenticate che voi potete accedere a TikTok anche dal desktop con le credenziali del vostro account. Questo vi permette, poi lo vediamo anche più avanti, non solo di fare delle analisi, ma anche di pubblicare direttamente i contenuti da desktop, di programmarli anche. Quindi, accedendo come vedete, questa è una screen. Vi ho lasciato parecchi screen, preferisco lasciarli sempre, perché così quando avrete le slide, le videoregistrazioni, che trovate sempre sulla piattaforma, avete modo di rivedere passo passo quello che potete fare. In alto a destra, dal profilo, troverete la voce Kit per il business. Quindi vi ricordo che questi sono dati che avrete solo e esclusivamente se avrete un account business e non un profilo personale. avete la possibilità non solo di vedere le metric direttamente dalla dashboard, ma di scaricare tutti i dati e di conseguenza fare dei report e delle analisi. Nella voce panoramica avete la possibilità di vedere quelle che sono le visualizzazioni di video, le engagement, quindi i commenti, le condivisioni, mi piace, i follower, quindi riuscite a vedere i follower nuovi, quelli persi e la crescita netta. Perché questo vi aiuta? perché se voi andate a capire qual è l'intervallo di tempo in cui avete perso per esempio dei follower oppure il periodo di intervallo di tempo in cui si sono fermati o il periodo dell'intervallo di tempo in cui invece avete fatto un picco di nuovi follower, andrete a vedere che tipo di contenuto avete creato, avete pubblicato, che tipo di video avete pubblicato in quell'intervallo di tempo per comprendere effettivamente quali sono i contenuti che vi fanno acquisire o perdere follower. Premesso, come dicevo prima, cercare di seguire le tendenze ma soprattutto creare tendenze vi aiuterà. Non è detto che nel momento in cui se non guardate effettivamente i vostri dati, nel momento in cui andate a creare magari un video con un format in tendenza, avrete per forza un ottimo risultato. Con questo non vi sto dicendo che creare contenuti in tendenza non porti ottimi risultati, ma non lasciatevi ingannare da quello che vedete così ad occhio sulla piattaforma a quello che leggete in giro senza effettivamente vedere i dati della vostra community. Ok? È fondamentale. L'altra voce che potete andare a analizzare è quella del pubblico. Avete sempre la possibilità di scaricare tutti i dati, quindi andate a vedere nel dettaglio non solo i nuovi follower, i follower totali, ma qual è il vostro tipo di pubblico, quindi con tutti i dati demografici. Poi potete andare a fare diciamo un approfondimento proprio sui video, andando a vedere, scaricando i dati per visualizzazioni, per mi piace, per commenti o condivisioni. Riuscite a vedere anche questi dati dal mobile, però diciamo che a mio parere non vi aiuta appunto nel download, nell'andare a creare delle reportistiche, però vi aiuta nel tenere monitorato diciamo quello che è l'andamento e soprattutto come vedete qui a colpo d'occhio avete tutte le metriche, quindi dalle visualizzazioni, dai commenti, alle condivisioni a quante persone salvano il video. La metrica del salvataggio secondo me è sempre fondamentale da tenere in considerazione perché vi fa veramente capire quali sono le preferenze degli utenti, quindi andate a vedere effettivamente quali sono i video più salvati per capire sia se è una questione di format, di formato, piuttosto che di durata, piuttosto che di tipologia di contenuto. Un'altra sezione fondamentale sempre sulla parte di analisi, ma ritorniamo alla dashboard non da mobile ma da desktop è il workspace. Faccio una specifica. È probabile che alcune voci di queste se andrete poi a fare dei test o ci starete già controllando, alcune voci potrebbero essere anche un po' diverse. Considerate che la piattaforma è sempre in continua evoluzione, ci sono degli nuovi strumenti, quindi alcune voci le stanno cambiando e alcuni account hanno già alcune funzioni in navi test, alcune stanno cambiando proprio le voci ma non ancora per tutti gli account. La voce workspace del lab creativo è una sezione nella quale riuscite a vedere i contenuti che sono andati in tendenza e questo vi aiuta soprattutto vedete ovviamente quelle con le migliori prestazioni potete filtrare vedete per giorni l'ultimo giorno gli ultimi sette giorni e quindici giorni avete solo questo filtro di intervallo di tempo però vi aiuta appunto per cercare ispirazione quali sono i contenuti di tendenza. andiamo ora e consigli proprio pratici diciamo delle best practice ribadisco che parliamo sempre e solo di in questa parte qui di attività inorganico ok? quindi tra le best practice utilizzate gli hashtag potete includere premessa queste sono proprio linee guida che danno i consulenti di tiktok che trovate anche volendo sulle guide di tiktok questi tre punti quindi utilizzate gli hashtag consigliano di utilizzarne fino a 10 in un posto su tiktok perché va secondo i dati ad aumentare la visualizzazione dal 5 al 6 per cento ovviamente anche qua quello che vi consiglio è di fare anche dei test sia su quanti hashtag utilizzate sia su quali utilizzate e poi andare a scaricare i dati e vedere quali hashtag avete utilizzato nei contenuti con più visualizzazioni quindi vedete questo dato di più visualizzazione rispetto agli hashtag che avete utilizzato utilizzate ovviamente la musica considerate che la maggior parte degli utenti tiktok l'88% afferma che proprio l'esperienza diversa che c'è su tiktok è proprio dettata anche dalla musica sul tema della musica come vi dicevo prima molti sono resti a fare un business account perché non tutte le musiche in tendenza sono utilizzabili ma trovate comunque una libreria di musicale su tiktok che vi permette di scegliere molte musiche anche simili vi suggerisce quelle simili a quelle in tendenza e cercate di pianificare quindi fatevi ispirare ovviamente muovetevi secondo le tendenze questo significa lavorare nell'immediato ma cercate anche di pianificare perché vi permette di avere sempre una copertura e la piattaforma stessa vi consente di pianificare quindi utilizzate le funzioni che lo consentono sfruttate il creative center il creative center è sempre uno strumento di tiktok al quale accedete con un business account e cosa vi permette di fare per vedere la sezione degli hashtag quindi rispetto al fatto che vi dicevo di utilizzare gli hashtag almeno fino a 10 potete filtrare per stato per industry per intervallo di tempo e vi da praticamente una selezione di tutti gli hashtag più popolari quindi rapidità andate a fare un check su questo prima di di postare per ogni hashtag addirittura questo sempre attraverso il creative center riuscite a vedere gli interessi correlati a quegli hashtag gli hashtag correlati i creator di tendenza che utilizzano quegli hashtag e il pubblico che utilizza quegli hashtag per fasce d'età e questo vi permette di comprendere appunto se voi avete un target o un pubblico vi riuscite a vedere dai dati che abbiamo visto prima di analisi che ha una certa fascia d'età riuscite a vedere quella fascia d'età che hashtag utilizza e quindi li potete inserire nei vostri contenuti nelle vostre didascalie c'è anche una sezione song sempre di canzoni nel creative center anche qui potete andare a filtrare per giorni e vedere quelle che sono le canzoni in tendenza in modo tale poi da utilizzarle addirittura per ogni canzone quindi questo vi aiuta come vi dicevo prima a cercare appunto magari delle canzoni simili a quelle in tendenza che magari la piattaforma non vi fa utilizzare e per ogni canzone potete trovare il pubblico che utilizza quella canzone gli interessi correlati e le canzoni simili quindi questo è fondamentale quindi cercate di seguire la vostra creatività ma pianificate pianificare significa appunto creare prima ovviamente una strategia di contenuti video per TikTok significa anche però pianificare appunto la pubblicazione di questi contenuti attraverso l'analisi che vi facevo vedere prima dei dati che potete estrarre riuscite anche a comprendere l'orario migliore per la vostra community il giorno migliore per la vostra community anche se questi sono dati che cambiano costantemente anche per una questione di stagionalità e di tendenze su TikTok però la piattaforma vi permette di programmare i contenuti direttamente dalla dashboard qua siamo sempre negli screen del desktop quindi potete caricare il contenuto andate a creare la vostra didascalia e andate a programmare il video inserite i tag e gli hashtag tra l'altro ora questo dimostra come non solo gli account siano sempre in continua evoluzione veramente le piattaforme ma come cambia l'utilizzo che ne fa l'utente anche nella lettura un tempo prima credo che fosse un anno fa non ricordo precisamente le didascalie potevano avere da desktop riuscivate a inserire 150 caratteri ora sono 2000 questo per dire che dobbiamo sempre calibrare la comunicazione non è detto che il contenuto o la didascalia più breve funzioni di più se la piattaforma ci permette oggi di creare una didascalia con 2200 caratteri considerate sempre che quello che vi dicevo prima che TikTok ha un sistema di algoritmo veramente forte grazie al machine learning per cui tutte le nuove funzioni che le piattaforme cercano di implementare implementano sono dettate anche dai dati che acquisiscono rispetto all'utilizzo che ne fa l'utente quindi questo è fondamentale potete fare i duetti gli stitch qui non vi sto a specificare così riusciamo a lasciare del tempo per le domande ma vi ho rilasciato poi la specifica di cosa sono alcune funzioni e la cosa super interessante torniamo al discorso di quanto sia smart la piattaforma che nel momento in cui voi caricate il contenuto questo non c'è da tantissimo prima si poteva fare solo all'interno del creative center ora quando caricate il video potete modificare direttamente il contenuto video dalla dashboard quindi ha praticamente uno strumento di editing incorporato già sia sulla parte advertising che vediamo dopo che sulla parte di organico vedete vi da la possibilità di inserire le musiche di utilizzare determinati modelli e poi anche di editare direttamente il video per chi di voi magari fa già editing video conosce bene magari queste queste funzioni e questo però appunto è proprio nella funzione di caricamento dal tiktok dall'account direttamente a quale accedete con le vostre credenziali qui invece passiamo al creative center ok quello strumento che abbiamo visto anche prima per gli hashtag e le canzoni e sempre nei creative tools ci accedete sempre se avete l'account business avete la possibilità proprio di avere l'editor video fortissimo cioè lavorate sulle sui testi sulle musiche proprio sull'editing a 360 gradi dei contenuti un altro strumento interessante del creative center è il keywords insight anche qua però è sulla voce in inspiration invece che sulla voce creative tools avete la possibilità di vedere le parole chiavi e le frasi principali qui siamo già sulla parte di advertising e di annunci vi dà la possibilità di vedere quali sono le parole e le didascalie diciamo più performanti negli annunci e quindi questo diciamo che vi aiuta a prendere spunti ed idee per avere una messaggistica diciamo più creativa ma anche che porti dei risultati potete filtrare per regione per settore o altre o altre voci in intervallo di tempo per sapere quella che è la parola più utilizzata con il rendimento più elevato quindi questo vi permette di capire in quale contesto è stato utilizzato quel testo pubblicitario quindi rispetto a questa parte che abbiamo visto sino ad ora è importante che mettate in pratica le best practice che abbiamo visto prima le famose 4C più gli altri tre punti che suggerisce la piattaforma rispetto all'utilizzo degli hashtag e alla musica cercate di osare con la creatività cercate di giocare anche un po' fuori dagli schemi e poi analizzate effettivamente per comprendere quelli che sono i contenuti migliori con più performance adeguate quindi il vostro futuro piano di creazione di contenuti rispetto a questi dati ma cercate sempre di aggiornarvi e seguire quelle che sono le evoluzioni della piattaforma perché ci sono sempre delle nuove funzioni da apprendere diciamo passiamo ora alla parte di advertising scusate mi avevo bisogno di bere allora anche qui vi ho lasciato non potevo entrare nella piattaforma per una questione di privacy sui dati rispetto ai clienti quindi vi ho lasciato gli screenshot per tutti i vari passaggi però così potrete rivederli con calma partiamo da una specifica fondamentale per non andare in confusione soprattutto se c'è chi tra di voi magari fa consulenza come me per cui lavora su più clienti su tiktok ads e magari lavora quindi con più account pubblicitario addirittura a più business center o se il cliente vi chiede come accedere all'account pubblicitario è fondamentale capire la distinzione di questi strumenti il business center come vedete qua l'ads manager e il creative center il creative center considerate che quello che abbiamo visto sino ad ora vi ho fatto vedere tutte le funzioni per sfruttarlo però capiamo bene cos'è il business center è praticamente uno spazio aziendale che vi permette di centralizzare tutte le risorse del team in un unico posto per intenderci anche se non è proprio uguale però per farvi capire come il business manager di meta di facebook ok quindi con un business center voi riuscite a utilizzare a gestire più risorse se più risorse lavorano a quell'account ok quindi con il business center potete dare accesso a più persone gestire e condividere risorse tra più account pubblicitari richiedere gli accessi ad altri account pubblicitari specialmente se fate consulenza magari avete un business center della vostra area consulting per cui avete necessità di chiedere l'accesso a un account pubblicitario di un cliente lo fate anche grazie al business center e inoltre se avete più account pubblicitari potete inserirle sotto lo stesso business center mentre l'house manager non è altro che l'account pubblicitario per fare le campagne pubblicitarie su tiktok è obbligatorio avere un house manager per fare pubblicità non è obbligatorio avere un business center per fare pubblicità ma vi aiuta nella gestione delle risorse e degli account il creative center abbiamo visto già alcune funzioni fondamentalmente la piattaforma gratuita ma solo se avete un account business che vi permette di avere più risorse creative scoprire quindi tendenze annunci e tra l'altro spesso spuntano nuove funzioni che vi notificano quelle che sono le best practice di tiktok per creare annunci di qualità quindi vi consiglio di utilizzarle quindi abbiamo capito bene la distinzione di queste tre voci andiamo ora nell'ads account nell'ads manager anche tiktok ci permette di lavorare in ottica funnel quindi dalle awareness alla conversion e come vedete qua questo è praticamente lo screen della prima parte dell'ads quando definite l'obiettivo quindi andiamo dalla copertura al traffico alla visizione video alla community interaction che è praticamente l'acquisizione dei follower fino alla lead generation il modo migliore per avere una strategia diciamo efficace anche quello che consiglia la piattaforma ma rispetto anche all'esperienza che io sto vedendo in effetti i risultati è quello di avere una strategia integrata tra organico e social cioè avere un profilo organico fare advertising ma mettere in advertising non solo video creati apposta solo per le campagne pubblicitarie ma sponsorizzare anche video che pubblicate in organico sul profilo e questi sono definiti annunci spark gli spark ads quindi lo spark ads è praticamente l'organico più il paid cioè la possibilità di sponsorizzare i contenuti che postate in organico mentre il no spark sono i contenuti che vengono promossi solo in advertising il consiglio è di integrare lo spark ads con il no spark come funziona un po' la struttura di tiktok ads abbiamo il livello della campagna dove andate a impostare l'obiettivo l'ad group definite il tipo di creatività il pubblico e il budget e poi l'ad set quello proprio il livello in cui definite il tipo di contenuto da sponsorizzare come vedete ha la struttura che hanno anche le altre piattaforme advertising di social se già le utilizzate quindi al primo livello noi decidiamo qual è l'obiettivo della mia campagna sul secondo livello a chi mi rivolgo e al terzo livello cosa e come comunico quindi prima di impostare una campagna fatevi queste tre domande perché vi aiuterà a settarle in ottica strategica come vi dicevo prima gli obiettivi sono dalla reach alla conversion vi ho lasciato appunto questo specchietto che vi dà qualche informazione rispetto al punto del funnel business goal vediamo però cosa troviamo all'interno del tiktok ads manager oltre alla sezione campagna che ci permette questa qui di settare le nostre pubblicità avete la sezione strumenti dove avete la possibilità di gestire il pubblico c'è la possibilità di editare video le pagine istantanee sono le lead le vediamo oltre a poco e la parte di analisi la parte di analisi è proprio quella che vi permette di fare i report sulle vostre campagne pubblicitarie quindi lo fate all'interno dell'ads manager come creiamo una campagna siamo in ads manager andiamo ovviamente sulla voce campagna andiamo a creare la campagna decidiamo qual è l'obiettivo della nostra campagna e poi abbiamo la possibilità di definire se creare uno split ottimizzare il budget per campagna sono voci tutte un po' ho la possibilità di impostare il budget appunto per campagna qual è il tema il tema è che la cosa fondamentale è che voi avete la possibilità di avete l'obbligo diciamo di spendere minimo 20 euro al giorno cioè sotto i 20 euro al giorno non potete attivare campagne pubblicitarie potete sponsorizzare anche con un'impostazione di budget totale non giornaliero ma sarà sempre sul minimo dei 20 euro non pensate però che questo significa che quindi TikTok costa di più di altre piattaforme avete l'obbligo dei 20 euro giornalieri ma poi decidete voi ovviamente per quanto intervallo per quanto tempo tenere attiva la vostra campagna e poi c'è da tenere in considerazione una cosa fondamentale ovvero che i costi per azione costo per follower costo per conversione sono molto più basse delle altre piattaforme ad oggi sono anche più basse per un tema di competizione perché c'è meno competizione in piattaforma quindi ad oggi i costi sono bassi perché le aste sono più basse essendoci meno competitor soprattutto su alcune country avete la possibilità di definire il budget a livello di campagna cosa significa che voi date un budget totale alla piattaforma e poi sarà la piattaforma stessa a distribuire il budget sui vari gruppi annunci e non impostarli voi avete la possibilità di fare anche uno split test che è quindi un A-B test che consente di testare due diverse versioni di annunci ad oggi potete utilizzare tre variabili che sono il target l'offerta e la creatività questo vi permette di capire qual è diciamo la variabile che vi porta più risultati andiamo all'Ads Group l'Ads Group definite qual è il pubblico da intercettare nella vostra campagna come vi dicevo prima TikTok è stata una delle piattaforme più avanti rispetto al tema dell'intelligenza artificiale il machine learning infatti abbiamo il target automatico da sempre su TikTok almeno da quando io faccio campagna su TikTok c'è il target automatico e quindi diciamo acquisisce i dati e va a targetizzare automaticamente lui il pubblico c'è il target personalizzato quindi qua come tutte le altre piattaforme avete la possibilità di definire il vostro target per demografica per potere di acquisto questo è un dato fondamentale molto utile non tutte le piattaforme azze ce l'hanno quindi potere ovviamente gli utenti con un potere d'acquisto elevato spendono più soldi per acquistare rispetto ad altre quindi può essere utile per alcune vostre campagne poi avete la possibilità di includere o di escludere dei pubblici personalizzati che avete già salvato da pubblici interni a lookalike che sono i pubblici simili questo potete farlo nella sezione strumento a gestione del pubblico come vedete vi dà la possibilità di creare dei file cliente cioè di caricare proprio delle liste email di creare gli utenti che hanno interagito col vostro contenuto e poi li ritrovate sempre appunto nella gestione pubblica questi però sono pubblici si chiamano personalizzati perché andate a personalizzarli e a crearli voi quindi da qui create pubblici interni che poi possono diventare pubblici luogalike da quei pubblici create pubblici simili potete intercettare il vostro target rispetto agli interessi e al comportamento che sono appunto basati su interessi dal cibo ai giochi all'e-commerce vi dà una lista sinceramente leggermente più ristretta questa lista rispetto ad altre piattaforme attualmente però vedo che nel tempo TikTok anche su questo si sta sviluppando molto rispetto ai comportamenti in app dell'utente qui come interazione con video di creator e anche in base agli hashtag quindi una volta che avete individuato il pubblico passiamo all'ultimo step ricordatevi sempre che l'efficacia di una campagna dipende molto dal pubblico che siamo in grado di intercettare passiamo all'ad group il terzo livello quasi ultimo diciamo pianifichiamo definiamo il nostro il secondo livello scusatemi definiamo quindi dopo il target il budget giornaliero che deve essere o totale ma sempre un minimo di 20 euro e poi definiamo l'ottimizzazione dell'offerta l'ultimo livello è quello dell'ad group cioè andiamo a scegliere che tipo di contenuto promuovere prima se ricordate ve l'avevo già anticipato il TikTok era una piattaforma fondamentalmente di video sharing ha iniziato man mano poi a inserire anche la possibilità di sponsorizzare le immagini fine caroselli quindi ad oggi abbiamo la possibilità di promuovere i video che sono i video verticali insomma che avrete sicuramente visto anche in advertising spesso quello che vi dicevo prima è che l'utente per come utilizza TikTok non si rende conto del video sponsorizzato spesso pensa che sia un video inorganico i contenuti anche con immagini che verranno la visualizzazione sarà questa ma anche i caroselli e questa vista qua che vedete è un'anteprima ed è l'anteprima che spunta rispetto alla ricerca prima vi dicevo che oggi è possibile fare advertising anche sulla ricerca di TikTok quindi se un utente cerca il video cerca un contenuto potrà spuntare il vostro video sponsorizzato ovviamente qua non vado nel dettaglio di come è caricato un'immagine o un carosello giusto per farvi capire appunto le possibilità che avete ma vado solo esclusivamente nel dettaglio del caricamento del video per farvi vedere come voi potete caricare sia un video che avete in libreria o un video che avete già editato bello e pronto ma anche avete la possibilità di creare direttamente il video dalla piattaforma advertising stessa perché c'ha anche a livello di ADV il TikTok video editor quindi editate il video anche direttamente da qui sul tema dello Spark Ads che vi dicevo prima quindi la possibilità di sponsorizzare i video anche che avete pubblicato in organico vi ho lasciato i passaggi che si possono fare quindi andate a cliccare su poste TikTok la piattaforma vi dà già tutti i contenuti che avete pubblicato e ovviamente lo selezionate però potreste dover sponsorizzare i video di un altro profilo questo può succedere come fate per farlo dovete autorizzare TikTok a fare questa questa dovete avere l'autorizzazione da quel profilo per sponsorizzarlo e qui vi ho lasciato tutti i passaggi che però non sto a descrivervi per scaricare il codice e inserirlo nell'Ads e poter promuovere quel contenuto attenzione però ottimizzate sempre l'annuncio quindi se fate una campagna pubblico non è che perché la piattaforma TikTok è più creativa e quindi decidiamo di non tracciare i dati sul sito nel momento in cui facciamo una campagna traffico potete selezionare poi le varie voci di call to action che sono migliori anche di tante altre piattaforme e come vedete potete andare a inserire l'URL con tutti gli UTM per tracciare da Analytics funzione assolutamente interessante relativa alle EI che sono state integrate super utili che io sto utilizzando molto è lo smart text negli annunci cioè la possibilità di dare alla piattaforma in pasto la industry la parola chiave e poi vi vengono generati una serie di testi per gli annunci che poi potete modificare ma aiuta veramente molto ricordatevi che funziona col machine learning per cui ovviamente vi fa delle proposte di annunci che potrebbero performare di più un'altra funzione è il creative assistant è in funzione beta non è su tutti gli account lo trovate da creative center è praticamente una sorta di chat GPT all'interno di TikTok cioè voi potete scrivere degli script per gli annunci e TikTok vi restituisce insomma la proposta ora vi lascio rapidamente quelli che sono la possibilità di advertising cioè abbiamo visto che gli obiettivi sono tanti però faremo una carrellata un po' rapida ho voluto però comunque lasciarveli per darvi poi il tempo di di studiarle insomma con calma ma ci siamo focalizzati su le campagne di lead generation e le campagne di conversione le campagne di lead generation dovrete avere un collegamento al CRM per poterle attivare automatizzare il tutto le campagne di conversione per esempio l'acquisto avrete la necessità di fare un'implementazione del pixel dell'evento di conversione le campagne di generation ovviamente sono dei lead che vengono generate attraverso la compilazione di un form all'interno di tiktok se avete fatto già lead generation su linkedin o su meta considerate che più o meno è la stessa cosa i lead possono essere inseriti in un flusso email che vengono collegati però al CRM attraverso un connettore vi ho lasciato la lista dei connettori per tiktok le lead poi sono visibili e scaricabili all'interno di tiktok è importante però seguire alcuni step prima di definire di iniziare proprio a settare la campagna lead generation altrimenti perderete il gran tempo innanzitutto vi dovete assicurare che ci sia il collegamento con il CRM e vi ho lasciato la lista dovete creare il form da ads group settando l'obiettivo generazione lead dovrete creare un nome per il form da passare al tool CRM e poi dovrete fare un test per verificare che tutto funzioni e la lead arrivi al CRM avete la possibilità di creare ovviamente dei moduli istantanei sono i moduli avanzati o moduli classici cosa cambia tra i due cambia semplicemente che avete la possibilità di personalizzare più o meno il vostro form con dei colori piuttosto che con delle immagini ovviamente andate a inserire personalizzando il form con l'immagine il logo il testo introduttivo e i campi da far compilare all'utente la cosa interessante è che TikTok vi dà la possibilità anche di chiedere le informazioni sul lavoro il nome dell'azienda la qualifica del personale le mail del lavoro lo specifico perché è qualcosa che si dà per scontato che non ci sia sulla piattaforma di TikTok invece no e sono dati di acquisite fondamentali è necessario però ricordatevi il tema delle politiche dell'informativa sulla privacy non dimenticatelo qui vi ho lasciato il link delle politiche pubblicere TikTok ai termini di lead generation inserite sempre un'informativa sulla privacy che fondamentalmente è il documento che spiega come il vostro band raccoglie e utilizza quei dati quindi potete creare la prima schermata che è quella che abbiamo visto prima di creazione form per lasciare far lasciare il contatto all'utente ed è personalizzabile l'ultima schermata che chiamiamo la thank you page è possibile personalizzarla quindi basterà inserire i testi e gli url sul quale vogliamo far atterrare l'utente per aver lasciato la lead possiamo anche fare scaricare un contenuto il modulo avanzato come vi dicevo prima oltre ad avere magari la possibilità di poter personalizzare di più il colore del form la cosa interessante è che potete addirittura aggiungere le domande personalizzate quindi o addirittura fissare un appuntamento e avete anche la possibilità delle risposte condizionali non vado nel dettaglio perché servirebbero altre due ore però vi do degli spunti per cui poi magari potrete andare a studiare se avete fatto già lead generation su facebook più o meno vi renderete conto ci sono delle cose molto simili funzionano leggermente in maniera diversa avrete poi a questo punto una volta creato il modulo un'anteprima del vostro form una volta creato l'annuncio e il form dovrete vedere l'anteprima per inviare il test diversamente non potete far partire la campagna vi troverete poi in pagine istantanee tutti i form che avete creato quindi avete la lista dei vostri form quindi è qui che visualizzate i form creati che potete potete praticamente utilizzare la stessa forma anche in più campagne o da questa vista duplicarvi per accelerare i tempi di settaggio di operatività le lead generate invece le visualizzate nella voce lead quindi fondamentalmente se non riuscite ad avere il collegamento col CRM voi vi ritroverete tutte le lead in questa voce e potenzialmente potete anche scaricarle però diciamo che non è il massimo dell'automizzazione quindi il consiglio è sempre di collegarlo al CRM mentre per la compagna di conversione quindi parliamo di conversione di un acquisto su uno shop è necessario implementare il pixel come tutti gli altri pixel delle altre piattaforme che non è altro che un codice che viene aggiunto al sito per riuscire ad acquisire dei dati quindi monitorare il traffico sul sito e misurare anche le performance delle vostre campagne come create un pixel dovete proprio cioè per avere il pixel da passare al programma allo sviluppatore dovete proprio crearlo qui vi ho lasciato tutti i passaggi e sono tutti in TikTok ad manager su strumenti voceventi dovete dare un nome al vostro pixel vi ho lasciato anche le linee guida per cui venga accettato il pixel dalla piattaforma quindi un certo nome una lunghezza di caratteri dovete scegliere una configurazione selezionate il codice dopodiché arrivati a questa schermata avete tutti diciamo le informazioni necessarie da inviare allo sviluppatore in modo tale che riesca ad installare sul sito il pixel la cosa fondamentale è che una volta settato il pixel oltre ovviamente a crearvi pubblici di remarketing che saranno utili per le vostre campagne l'abbiamo visto prima nella sezione pubblico che potete crearle è la possibilità di creare degli eventi standard personalizzati in modo tale da tracciare i dati ma anche da andare a ottimizzare le performance delle campagne quindi qui vi ho lasciato tutta la lista degli eventi standard supportati con il pixel potete andare a creare l'evento chi ha aggiunto al carrello in modo tale da fare delle campagne per i commerce per far vedere a chi magari ha aggiunto un prodotto al carrello ma non ha finito l'acquisto far vedere la sponsorizzata quindi queste sono tutte le liste degli eventi che potete andare a realizzare col pixel intervenire però nelle campagne anche una volta settate è fondamentale perché è fondamentale ottimizzarle nel tempo questo soprattutto se sono campagne in alta stagione come ottimizziamo le campagne nel tempo per TikTok ovviamente il primo passaggio è quello di monitorare quindi misurate definite ovviamente dei KPI in base a quelli che sono gli obiettivi della campagna e misurate queste metriche almeno ogni due settimane valutate anche delle eventuali modifiche di budget e valutate di aumentarlo per quei gruppi di annunci che raggiungono dei buoni risultati attendete però sempre due giorni prima di vedere effettivamente il risultato di questi cambiamenti la piattaforma vi consiglia nel momento in cui andate a fare un aumento di budget di farlo almeno del 20% e di evitare di fare queste modifiche nel weekend cercate di massimizzare le performance come andate ad aggiornare gli annunci di quei gruppi che hanno buone prestazioni quando però poi le performance si iniziano a calare quindi magari aggiungete delle nuove creatività e quindi ottimizzate andando ad abbandonare sia le creatività che quei segmenti di pubblico che per troppo tempo hanno speso ma non hanno portato delle buone performance ultime best practice così abbiamo anche il tempo di rispondere alle domande rispetto ovviamente questa è la parte di advertising quindi configurate il pixel di TikTok e gli eventi di conversione create con anticipo tutti i vostri pubblici personalizzati il mio consiglio è quello di impostare il budget a livello di gruppo annuncio e non a livello di campagna perché se anche a livello di campagna lavori in machine learning in questo modo voi avrete la possibilità di intervenire avete più margine di manovra cercate anche in base al budget che avete di impostare diverse campagne anche su diversi obiettivi perché abbiamo visto la piattaforma ci permette di lavorare su tutto il funnel quindi partite da campagne di copertura fino a campagne di conversione quindi provate più obiettivi e testate anche più gruppi annunci su un'unica campagna perché come abbiamo visto prima dalla struttura una campagna può avere anche più gruppi annunci io con questo ho finito abbiamo anche il tempo delle domande quindi ora bevo un goccio d'acqua e vado a controllare se ci sono state domande spero di sì ora datemi il tempo di controllare un attimo faccio un refresh della pagina allora ho una domanda io che sono una grafica di siti scusa prima bevo un attimo e altro ha senso farmi pubblicità dentro TikTok? grazie mille grazie a te per la domanda se l'ho capito bene sì ha senso che tu faccia pubblicità ovviamente devi avere un profilo visto che farei del personal branding se sei freelance ti occupi solo tu di grafica per siti dovrai crearti un tuo profilo che sia però un business account ha senso anche perché sempre più dipende poi chi è il tuo cliente però assolutamente sì puoi creare ovviamente delle buone targetizzazioni perché visto dalla lezione puoi lavorare sia a livello demografico ma non solo anche per interessi quindi probabilmente potresti muoverti rispetto agli interessi e comportamenti di chi cerca è orientata sulla tecnologia però dipende anche dal tipo di siti di cui ti occupi puoi prendere persone interessate alla grafica se hai già bene in mente chi è effettivamente il tuo pubblico riesce a crearti delle personas rispetto a quello che è il tuo cliente in base a queste personas tu fai una buona scheda che poi vai a declinare in livello di campagna rispetto a interessi comportamenti e demografica anche di età quindi sì perché no ricordati ovviamente che hai un limite minimo di 20 euro giornalieri quindi sì andiamo a un'altra domanda un'ufficina meccanica super strutturata quindi ha un potenziale di ricerca su tiktok non mi immagino che tipo di video potrebbero creare allora questa è una bellissima domanda però è molto generica nel senso che allora come vi facevo vedere prima anche grazie al creative center voi vedete quelle che sono tutte le industrie su tiktok e quindi c'è anche questa parte qui di officina meccanica quindi meccanica auto anzi ci sono molti creator ora mi vengono in mente nomi ma ci sono molti creator tra cui anche donne appunto che avevano appunto la volontà di voler mandare questo messaggio che il meccanico non è solo un lavoro da uomo ma anche da donna e sono stati tra i contenuti più virali non ricordo il nome guarda mi dispiace un sacco non ricordo il nome della creator è americana spopolato proprio su tiktok proprio per questi video in cui fa vedere appunto il lavoro che fa che fa la meccanica questo per dirti che anche quel tipo di contenuto gira su tiktok le persone le fruiscono sono diventati molto virali i suoi video che tipo di video potrebbe creare potrebbero veramente essere tanti il tema della creatività su tiktok è molto soggettivo nel senso che al di là della tendenza che possiamo andare a seguire e studiare ovviamente dovete lavorare su una creatività che sia affine al vostro brand in questo caso ad un'officina meccanica ma i video potrebbero essere tanti la cosa che ti posso consigliare di fare è di utilizzare già il creative center che vi facevo vedere prima di filtrare per industry e la troverai di filtrare per parola chiave ti consiglio sempre di inserirli in inglese quindi magari inizi a inserire tutti gli hashtag che sono affini a meccanica car quel settore lì prova a vedere un po' i video che ti dà il risultato di ricerca per vedere un attimo che tipologia di contenuti vengono fatti è ovvio che mi immagino un contenuto appunto di intrattenimento però secondo me sull'officina meccanica se ne possono far tanti non ricordo guardo il nome della creator perché te l'avrei detto volentieri altra domanda queste tre si possono avere sì assolutamente sì le trovate sempre in piattaforma avrete sia le slide che le videoregistrazioni anzi vi notifico una cosa che nelle slide vi dicevo prima ci sono anche dei link per gli strumenti aggiungerò l'ultima slide in cui vi lascio dei link la devo aggiungere dei link utili rispetto a tutto quello che vi ho detto quindi la libreria delle musiche dove le trovate come creare un account pubblicitario come creare un business center vi lascio anche degli ulteriori link nelle slide avete sia le slide che le videoregistrazioni verranno pubblicate nei prossimi giorni qui in piattaforma sì esatto videoregistrazione slide nei prossimi giorni le trovate in piattaforma il budget minimo è lo stesso per tutti i tipi di campagna sì assolutamente sì che tu faccia una campagna rich una campagna di lead generation tu hai un minimo di budget di 20 euro una specifica ve l'ho trovata scritta nella slide perché l'avevo scritta se impostate a livello di gruppo annuncio il budget minimo è di 20 euro se impostate il budget a livello di campagna quindi del primo step quando scegliete l'obiettivo il minimo è di 50 euro il mio consiglio è sempre di partire dall'impostazione dal gruppo annuncio quindi con i 20 euro ovvio che se avete più budget potete potete investire più dei 20 però qualsiasi sia l'obiettivo il minimo è 20 euro ciao amiche la fantastica grazie sono molto felice che si è piaciuta la lezione hai consigli rispetto all'elaborazione del ped organico considerando che appunto la piattaforma può seguire trend temporanei più stagionalità grazie mille allora grazie a te per la domanda allora il consiglio dell'elaborazione ped allora ci sarebbe una lezione ne ho fatte varie su come fare dei ped per i social comprendo benissimo il tema del se ho capito bene la domanda tu vuoi dire visto che si lavora molto in tendenze le tendenze sono temporanee e durano poche senza che io faccia un ped e pianifichi sì la questione è che dovrai essere in grado i ped sono sempre più devono adattarsi al cambiamento quindi secondo me è sempre bene avere un ped in cui tu sei riuscita a pianificare con una certa frequenza una tipologia di contenuto o più di una tipologia di contenuto e di formato di video e sapere che andrai però a lavorare anche nell'immediato inserendo un contenuto in tendenza quindi devi essere in grado di mutare diciamo il tuo ped in funzione di questo grazie Michela grazie a voi le slide sì avete chiesto tutti delle slide forse perché forse ho corso leggermente e volete rivederle ma mi fa piacere che vogliate rivederle vi confermo che ci sono io punto alle aziende e formare con loro collaborazioni però qua forse non ha finito la domanda non lo so se mi senti e vuoi aggiungere altro oppure va benissimo che tu punti alle aziende e a formare collaborazioni con le aziende non ho ben presente di che brand stiamo parlando di che industry però puoi riuscire a targetizzare a lavorare su TikTok per intercettare le aziende magari in questo caso ma te la butto lì perché l'affermazione è molto generica probabilmente potresti fare delle campagne di lead generation di acquisire lead per poi stringere collaborazioni ah scusami era giù si è rifresciato ora non so se ha senso fare pubblicità su TikTok sono ah ok web and graphic designer allora non so siete già più di un web and graphic designer allora considerando che ad oggi TikTok è la piattaforma più utilizzata abbiamo visto che sta crescendo parecchio quindi anche chi non pubblica contenuti va su TikTok per fruire contenuti e passarci un bel po' di tempo quindi potenzialmente il tuo cliente potrebbe essere su TikTok dirti se ha senso fare pubblicità su TikTok o meno quello che ti dico che è un po' quello che ho detto la tua collega che se non sbaglio faceva lo stesso lavoro dipende molto anche dal budget che avete a disposizione ecco e quindi in base al budget che avete a disposizione comprendere effettivamente che tipo di campagne sia senso ed è sostenibile fare una campagna pubblicitaria lo dico perché magari per chi è più freelance piuttosto che per chi lavora in un'agenzia magari i budget sono un po' diversi però sì perché no sì ovvio che ti consiglierei anche LinkedIn che è un altro tipo di piattaforma però oggi avendo parlato di TikTok e avendo visto un po' le funzionalità ti direi prima prova a fare una ricerca innanzitutto effettivamente verificare il budget a disposizione che hai dell'investimento che puoi fare da lì andare a magari se non hai un profilo TikTok crearti solo un profilo ad manager e provare a fare qualche sponsorizzata facendoti prima una ricerca col creative center che vi ho fatto vedere prima un po' su quelli che sono magari i contenuti rispetto al graphic designer prova a vedere magari anche che tipo di contenuti pubblicano gli altri ormai tutte le professioni digital da social media manager al graphic designer tutti questi tipi di professioni qui fanno molto personal branding anche su TikTok spesso il tipo di contenuto sono contenuti chiamiamoli education in cui vengono dati dei consigli delle sorte di tutorial dei tutorial in cui magari hanno dei format in cui lanciano delle pillole su non lo so faccio un esempio se dovessi farlo io da social media manager ma sono talmente tanto impegnata a lavorare sulle consenze clienti che non ho i miei profili su cui faccio personal branding però se fossi da social media manager dei tutorial su come creare un annuncio pubblicitario su Facebook la stessa cosa potresti fare su tu come graphic designer vedrai se fai una ricerca che potenzialmente riesci a trovare dei contenuti per capire effettivamente che tipi di contenuti vengono fatti con una bella ricerca grazie grazie complimenti Michela sei riuscita da una spinta sono contenta che hai fatto questa spinta ok ho visto che mi ha risposto rispetto al linkedin e che su PED si ragiona per contenuti in modo da avere contenuti continuativi e coesi questa logica magari va parzialmente rivista proprio in funzione dei trend specifici esatto è quello che intendevo correttissimo dico l'iniziale SB così capisci che ho letto la tua risposta sì 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 il PED ragiona su quel tipo di lì però dico questa cosa che quando parlo di PED lo specifico spesso nell'ultimo anno ma soprattutto dopo il covid si è sempre detto ah i PED sono morti ma i PED non è che sono morti in realtà sono mutati completamente cioè così come è mutato il nostro di lavoro il covid così come tutte le altre cose che vi raccontavano hanno influenzato un po' oltre al contesto storico poi il nostro lavoro ci hanno insegnato che dobbiamo essere sempre pronti a inventarci qualcosa di nuovo ma avere un PED significa aver fatto un'analisi anche prima sia sul brand che sul target avere queste nozioni conoscere effettivamente quali sono i nostri valori quali sono i contenuti che pubblichiamo qual è il nostro target ci aiuta veramente a lavorare anche in emergenza e a lavorare sulle tendenze perché quello che dobbiamo pensare è che il PED riesce a svilupparlo solo se hai a monte queste informazioni e queste nozioni sul brand e sul pubblico quindi questa è un po' la mia idea non è che sono morti sono semplicemente completamente mutati e devono rispondere alle esigenze dell'immediato dobbiamo essere bravi a lavorare così domanda basica da New Entry è normale avere problemi con gli account che vorrei seguire la piattaforma sembra non registrare i miei segui non ho capito bene cosa intende la piattaforma sembra non registrare i miei segui nel senso che poi non vedi cioè segui degli account e non ce li hai più tra quelli che segui o ti sembra di non vedere nel tuo feed i contenuti dei profili che segui perché nel secondo caso non credo che sia un problema è più un tema di algoritmo magari segui molti account diversi nel primo caso potrebbe essere un bug di piattaforma credo di sì clicco su segui e non li vedo esatto non li ho visti e non li ho nel feed e no non credo che sia un po' strano probabilmente secondo me rispondimi se riesci segui probabilmente profili molto diversi tra di loro e quindi potenzialmente non li vedi oppure sono account piccoli che non si posizionano dipende molto dipende dipende molto anche di quanto controlli TikTok sto mettendo dentro i SEO magari bisogna vedere effettivamente poi quando vai sui loro profili se c'è una frequenza effettivamente di posting di video sharing oppure no quindi quello potrebbe essere assolutamente d'accordo sono più forti che mai ma in evoluzione sono contento che tu sia d'accordo SD ok va bene non so se ci sono altre domande sono contenta di questa conversazione e se non ci sono altre domande io a questo punto vi saluto sto scorrendo un attimo mi sembra che non ce ne siano delle altre grazie tantissimo per per essere stati state con noi anche per questo ultimo appuntamento vi ricordo appunto che trovate video e slide le troverete dopo in piattaforma nei prossimi giorni e vi auguro una buona serata grazie mille ciao grazie mille